Buongiorno, sono Don Marco. Sto andando all'apparizione del 2 maggio 2019 qui a Meggiugorie. La prima volta che venni era il 1994 e naturalmente mi ha portato qui più la curiosità che non la fede. E mi ricordo che proprio nell'incertezza di quello che avrei trovato portai con me la tecca dell'Eucarestia per la comunione gli ammalati. Con questo pensiero dico se non trovo quello che cerco saranno giorni di preghiera, mi apparterò in qualche angolo per raccogliermi in preghiera con l'Eucarestia. Infatti in quei giorni c'era pochissima gente a Meggiugorie, erano ancora i tempi della guerra. L'ultimo giorno, il venerdì 30 settembre, mi ricordo rimangi solo io come sacerdote italiano per celebrare la Santa Messa. E colui che faceva la sagrista il servizio all'altare, mi invitò finalmente a incontrare Maria e a partecipare all'apparizione. Andammo puntuali, ci riunemmo, cominciamo la preghiera del rosario e finito il rosario cominciamo la preghiera dei sette pater ave gloria. Io portavo con me sempre la tecca con l'Eucarestia. Qualche istante prima dell'apparizione, dentro la tecca che avevo nella tasca della giacca, l'Eucarestia ha cominciato a sobbalzare, tanto che mise una mano pensando che anche gli altri sentissero questo rumore delle particole che saltavano dentro la tecca della comunione. E immediatamente dopo, questo segno che ebbi, incominciò l'apparizione. Maria proprio interruppe l'Ave Maria in bocca e naturalmente la vidi in estasi davanti alla Madonna. Ecco, per me fu il segno importante in quel momento della mia vita e anche, come dire, un segno che a Meggiugorie c'era davvero la Madonna, c'era davvero la mano di Dio all'opera. Grazie e uniti nella preghiera. Ciao.